una cosa speciale adesso sono stato invitato a partecipare in Sanremo con un artista italiano il nuovo Lorenzo Piani is gonna come and sing a song with us Lorenzo la nostra sera è l'esistenza di Dio facciamo queste cose tipo di jam e speriamo che non facciano tatti a loro perchè è una cosa che abbiano guardato oggi good Andreas Geck again on bass ancora Andreas un po' la palla sto lato di dire applausi 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 Grazie. 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 Grazie.